in questo video vi porto lungo il sentiero dei 5 campanili un percorso ad anello che parte dal borgo di zoagli si sale lungo delle mulatiere delle crose e anche lungo strade asfaltate la prima tappa della chiesa di san pietro in rovereto questo sentiero è perfettamente segnato con cartelli bianchi e gialli che indicano i cinque campanili e le varie tappe questo percorso coincide quasi per intero anche con il sentiero verde azzurro liguria le chiese principali lungo il percorso sono 5 ma si trovano anche altri edifici religiosi il punto più alto toccato lungo il percorso sono i 344 metri di semorile da qui si riscende lungo il canale risalendo sopra una bella mulatiera con gradoni si arriva nel borgo abbandonato di xexi un borgo con case in pietra e con facciate dipinte che fu abbandonata alla fine del secolo scorso grazie a tutti 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 il sentiero dei cinque campanili offre anche bei panorami su zoagli e poi su rappallo una volta arrivati nella zona nuovamente antropizzata si passa su strade asfaltate e viste le ultime due chiesette si scende di nuovamente a zoagli dopo aver percorso circa 11 km in tre ore e mezza seguitemi nei prossimi video grazie a tutti 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 Grazie a tutti.